Ultimo al fraseggio. È riuscito a passare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Aveva un compagno a sinistra, ha preferito fare da solo e non è stata sicuramente la scelta migliore. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Trova il compagno in ottima posizione. Può provare. Opta per il lancio lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ribery. Ribery. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Hanno rimontato, si sono assicurati la vittoria. Hanno dimostrato di essere squadra e di saper combattere fino alla fine. Per concludere l'analisi, a te invece che partire sembrava l'Italia? Questa squadra era dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Si chiude qui il nostro collegamento, un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. È sempre un piacere lavorare con te Fabio. Grazie. 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 Grazie.